Ciao amici cari, siamo in diretta live. Qui abbiamo un mazzo di carte completamente esaminabile, cuori, cuori, fiori e picco, ok? Carte mescolate. Questa è la cosa per avere più chiarezza possibile dell'effetto. Tutto mescolato ragazzi, non c'è, non viene giù niente. Ok? Spero che si veda tutto mescolato. Dopodiché io chiederò, mentre mescolo, una carta da gioco alla mia ragazza. Amore, dimmi la carta da gioco che vuoi tu. Quella che vuoi? Sette di cuori. Sette di cuori? Sì. Sicura, ok. Non vuoi cambiarti, va bene, giusto? Seven o' hearts. Ah, seven o' hearts, ok. Il mazzo che adesso è lasciato qui. Ora chiederò un numero tra 1 e 52. Dimmi il numero tra 1 e 52, quello che vuoi tu. Vai. Così a casa. Quello che vuoi. Vabbè, 10. Ten. 10? Sì. Sette di cuori, seven o' hearts, 10. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. La decima carta. Sette di cuori. Tutto esaminabile completamente. Questo è Arkhanumber in live. No joke, nothing. Bye.